E' chiusa nel dolore la famiglia di Alessandra Zorzin, la giovane mamma, 21 anni, uccisa a mercoledì nella sua abitazione di Valdimolino, frazione di Montecchio Maggiore, dalla guardia giurata Marco Turrin, 38 anni, di Vigo d'Arzare, nel Padovano. Difficile colmare la perdita della giovane figlia, la terza, la più piccola. Alessandra aveva altre due sorelle più grandi di lei. Il papà affida al sindaco di Montecchio, che ha fatto loro visita per esprimere il cordoglio dell'intera comunità, poche parole per ricordare Alessandra. Poi papà ci ha detto, per cortesia non fate cose fiaccolate o altre cose, perché ce ne sono già troppe. Se dovete dire qualcosa, una preghiera in chiesa ad Alessandra, in modo tale che sia ricordata. Lui ci teneva veramente tanto che fosse ricordata come era, una ragazza bella, solare e con tanta voglia di vivere. Proseguono intanto le indagini da parte di Carabinieri per far maggiore luce sull'effettivo rapporto tra Alessandra e Marco Turrin. I militari stanno cercando di cellulare di entrambi, che sembrano spariti, per verificare eventuali chat tra i due. Che la 38enne guardia giurata conoscesse Alessandra sembra assodato. Lo stesso compagno della 21enne ricorda di avergli detto di lasciarla in pace, mentre il padre di Turrin ricorda che il figlio aveva con lei una frequentazione. I militari in queste ore stanno cercando di risalire indietro nel tempo di questa amicizia, per dare un movente a quanto accaduto. Ancora sconvolta la piccola comunità di Val di Molino, un centenaio di abitanti dove tutti si conoscono. Ma non c'era neanche sentore che potesse succedere una cosa del genere. Io ho parlato con qualche membro della comunità di Val di Molino e loro dicono che se avessero saputo anche lontanamente che avevano questi problemi sarebbero senza altri intervenuti e avrebbero aiutati. L'intera comunità si stringe attorno ai familiari, al compagno e alla figlia di Alessandra, previsto per il giorno del funerale a Montecchio, il lutto cittadino. Chiederemo ai commercianti di abbassare le serrande in segno di solidarietà, un segno di tutta la nostra comunità che vuole essere partecipata al dolore, al grande dolore per la perdita di Alessandra.